a base al Deo sarà una signora non fa più no ragazzi a questo vediamo il corpo non c'è più nessuno non sappia io non ci faccio vieni a vedere lui 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 dai del dolore che hai sentito tutti quelli che hai sentito li ho messi dentro quindi li ho sentito saltare e andare dentro adesso non apposta quindi li posso mettere dentro li posso andare lì fuori li posso portarli fuori perché le con le pizza andate dentro come dire è un tubo fuori li metto fuori non posso metterlo fuori io li sento qua lo vedo bene però li vedrai mai in le immagini non li vedrai mai in le immagini